Parliamo della situazione scolastica nel comune di Carlendini dove nella zona Santuzzi l'istituto Aletta e la scuola Pirandello sono state sanificate mentre per il sindaco di Carlendini nel corso della settimana scorsa non ci sono stati casi di positività ma l'Aspi ha disposto la sanificazione e quindi la quarantena per alcune classi ma vediamo il servizio Prima per il sindaco di Carlendini non c'erano casi positivi al Covid-19 Ieri però lunedì 26 aprile 2021 vista la comunicazione da parte dell'Aspi di Siracusa si è disposto un periodo di quarantena di 14 giorni per gli alunni della classe prima a scuola primaria e sezione di scuola d'infanzia presso la scuola Letta di via Martire della Resistenza a Carlendini L'intero presso scolastico tra l'altro è stato posto ad intervento di sanificazione Cosa succede quindi nella scuola carlentinese? Il sindaco Giuseppe Stefio a questo punto dovrebbe dare una risposta a questo interrogativo che si pongono i genitori degli alunni Nella settimana che andava dal 19 al 24 aprile scorso un altro caso di Covid-19 era esploso in una prima media dell'Istituto Pirandello che fa capo sempre alle plesso Aletta di via Martire della Resistenza entrambi diretti dalla preside Fabrizia Ferranti Per il sindaco di Carlendini però non c'era stato nessun caso di positività alle Covid-19 mentre l'Aspi ordinava l'isolamento dello studente e la quarantena per l'intera classe Una situazione quindi quella che si registra nelle scuole di Carlendini che sta contribuendo a dialimentare la preoccupazione dei genitori degli alunni che dopo aver appreso la notizia relativa agli interventi di sanificazione dell'intero plesso scolastico Aletta di via Martire della Resistenza ubicato in contrada a Santuzzi oggi hanno deciso di non mandare i loro figli a scuola per tutelare la loro salute Il sindaco di Carlendini a questo punto ha il dovere di dire a tutti come stanno le cose nel mondo della scuola di Carlendini che è stata operativa anche in zona rossa a differenza di Lentini dove il sindaco ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine grato nel momento in cui anche la città di Lentini è entrata in zona rossa